È una delle domande che a scuola mi vengono fatte più spesso. Prof, ma quindi Dante era omofobo? Chiaramente non è possibile definire omofobo un uomo del Trecento, quando nemmeno il termine omosessuale esisteva ancora. Eppure esisteva l'omosessualità. E Dante qui ne parla, siamo nel quindicesimo canto dell'inferno, nel terzo girone del settimo cerchio, e stiamo per incontrare un omosessuale di tutto rispetto. Il maestro di Dante, Brunetto Latini. Ecco, partiamo col dire che non possiamo parlare di omosessuali, che è un termine abbastanza recente, ma possiamo parlare di sodomiti. Il termine sodomita viene da Sodoma, il mito biblico che ha a che fare appunto con l'omosessualità. Sodomiti sono coloro che si accompagnano con persone dello stesso sesso, e questo per un uomo del Trecento come Dante è un peccato. Tuttavia, tuttavia vedremo che la situazione è molto più complessa e articolata di quello che sembra, perché assisteremo di nuovo a quel meccanismo al quale ormai ci siamo abituati, secondo il quale Dante, da una parte condanna alcune cose, dall'altra prova una profonda empatia. Vediamo intanto come avviene questo incontro. Siamo ancora in quel sabbione infuocato del canto precedente, circondato dalla selva dei suicidi. Dante è costretto a camminare sui margini del fiume. Il vapore che si leva dalle acque crea una sorta di barriera impenetrabile rispetto alla spiaggia infuocata che ha davanti. Eppure in questa cortina di fumo riesce a intravedere un gruppo di anime. Già eravamo della selva rimossi tanto che io non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che veniva lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. Ecco qui cioè che ci eravamo ormai già allontanati dalla selva dei suicidi, tanto che non l'avrei nemmeno più vista, per quanto mi fossi rivolto indietro, quando incontrammo una schiera di anime che camminava lungo l'argine e ciascuna di esse ci osservava attentamente, proprio ci riguardava, come di sera uno è solito guardare un altro durante il novilunio, cioè durante il momento in cui la luna è completamente in ombra. Con fatica quindi queste anime che stanno camminando nello spiagione infuocato vedono Dante e Virgilio dall'altra parte della cortina di fumo. E si ver noi aguzzava le ciglia come il vecchio sartorfa nella cruna e aguzzavano gli occhi verso di noi proprio come fa il vecchio sarto verso la cruna del lago. Così adocchiato da Cotalfamiglia, così osservato da questo gruppo di anime, vi faccio notare fin da subito che questo gruppo viene chiamato Famiglia, tornerà a questo senso di comunità riguardo diversi tipi di anime ma soprattutto queste dei sodomiti. Ecco appunto, mentre ero osservato così, fui riconosciuto da un che mi prese per l'olembo e gridò qual meraviglia! Ecco che tra queste anime una sembra riconoscere Dante. Non solo lo riconosce ma lo strattona per la tunica e gli dice ma che meraviglia vederti qui. E io quando il suo braccio a me distese ficcai gli occhi per lo cotto aspetto sicché il viso ha bruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. Cioè io quando distese il braccio verso di me guardai attentamente, ficcai proprio gli occhi, verso quel volto bruciacchiato. Vi ricordo che i sodomiti, così come i bestemmiatori e gli usurai sono costretti a starsene sotto questa pioggia incessante di fuoco in una spiaggia che non dona riparo. Questo aspetto deformato, questo viso ha bruciato, ci dice Dante, non gli impedì comunque di riconoscere il personaggio. E chinando la mano alla sua faccia, cioè abbassando la mano verso il suo viso, risposi Siete voi qui, Ser Brunetto. Riconosce Ser Brunetto e la prima cosa che fa è abbassare una mano verso la sua faccia per fargli una carezza con un gesto d'affetto. E l'anima gli risponde Oh figlio al mio, non ti dispiace se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia. Cioè figlio mio, guardate proprio come lo chiama, no? Brunetto Latini è il maestro di Dante e lo chiama figlio mio. Non ti dispiace se Brunetto Latini ritorna indietro un po' con te e si discosta dalla sua schiera, dal suo gruppo, dalla sua famiglia come erano stati chiamati prima. Le anime dei Sotomiti sono infatti costrette a correre incessantemente su questa spiaggia cercando di evitare di volta in volta le palle di fuoco ma una delle caratteristiche che hanno è quella di dover stare in gruppo, compatte. Brunetto Latini quindi di fronte alla meraviglia di vedere Dante decide di lasciare indietro la sua schiera e di stare un po' con lui. Ecco, ora, se noi dovessimo fare oggi come oggi una riflessione su Brunetto Latini e Dante diremmo tutti che Dante è il personaggio più famoso dei due. All'epoca di Dante però non era proprio così. È il classico esempio dell'allievo che supera il maestro di una generazione precedente a Dante vive tra il 1220 e il 1294 fiorentino anche lui autore di opere importantissime per la letteratura medievale come Il Tresor che è scritto in lingua d'Oil in... tra mille virgolette francese oppure autore del Tesoretto nel quale, piccola curiosità, pensate un po', racconta di essersi smarrito in una selva oscura. Un'idea che Dante riprende poi per l'incipit del suo poema. Ecco, quindi quello che stiamo incontrando non è soltanto un personaggio della vita di Dante questo canto non è soltanto un canto autobiografico stiamo incontrando un personaggio autorevole un personaggio molto noto all'epoca di Dante un personaggio che si era fatto valere soprattutto in campo letterario, culturale. Ecco qui, da una parte Dante è costretto a metterlo in questo girone. Brunetto Latini, a quanto pare, è stato nella sua vita un sodomita dall'altra parte però non può non riconoscergli fin da subito una certa importanza, un certo spessore una certa autorevolezza e questo atteggiamento riverente nei confronti del suo maestro durerà per tutto il canto e ciò che rende questo canto bellissimo Dante in questo momento sembra quasi che se ne freghi della punizione divina che Brunetto Latini sta ricevendo l'importante per lui è averlo accanto è riconoscergli quel ruolo importante che ha avuto nella sua vita e nella vita culturale del paese quindi per rispondere alla domanda precedente ma Dante quindi è omofobo? Beh, da una parte Dante ragiona sicuramente con le categorie del suo tempo dall'altra parte però proprio questo atteggiamento riverente, rispettoso nei confronti di Brunetto ci fa pensare che oltre al dato biografico probabilmente ci sia anche una certa tolleranza nell'ambiente di Dante nel mondo di Dante del 300 nei confronti del peccato della sodomia che forse soltanto successivamente con il rinascimento e con la controriforma poi diventerà qualcosa da punire brutalmente a sostegno di ciò ricordiamo pure che Dante i sodomiti non li mette soltanto qui nel settimo cerchio dell'inferno ma ce li fa rincontrare anche nel purgatorio evidentemente quindi il sodomita può salvare la propria anima ecco non mi dilungo su tutti questi discorsi anche se so che creano molta curiosità perché questo è un tema caldo della nostra contemporaneità non c'è niente da fare e su questo tema ho scritto anche diverse cose vi lascio qui un link al mio libro sulla figura dell'omosessuale nella letteratura italiana un intero capitolo è proprio dedicato a Dante un altro a Brunetto Latini la sodomia del quale è ormai certa visto che abbiamo anche dei componimenti amorosi che si scambiava con un altro poeta buon dia di aiuti poesie d'amore anche molto belle che per fortuna sono arrivate fino ai nostri giorni torniamo però al canto vediamo quindi che cosa si dicono i due Dante dice Dante è assolutamente rispettoso nei confronti di Brunetto gli dice fin quando mi è possibile ve ne prego e se desiderate che mi fermi con voi che m'asseggia lo farò se lo concede costui con il quale vado cioè se Virgilio è d'accordo Brunetto gli risponde figliolo di nuovo lo chiama così qual di questa greggia si arresta appunto giace poi cent'anni senza arrostarsi quando il fuoco il feggia dice guarda che non possiamo fermarci la nostra punizione prevede che noi non ci fermiamo mai perché se ci fermiamo un solo momento per cento anni dobbiamo giacere senza poterci difendere quando il fuoco ci colpisce sembra quasi che la forza delle anime dei sodomiti sia nel restare compatti cioè nel muoversi in gruppo tutti insieme per schivare tutti insieme queste palle di fuoco che arrivano dall'alto non so io ci vedo in modo un po' romantico un senso di comunità che già esisteva magari ai tempi di Dante dopo tutto le persone che vengono oppresse in una società tendono quasi sempre a costituire delle comunità tra loro ma questa è tutta una mia lettura e quindi Brunetto gli dice continua a camminare io ti verrò dietro dietro e poi rigiugnerò la mia masnata che va piangendo i suoi eterni danni poi quando dovrò raggiungerò la mia schiera la mia famiglia il mio gruppo che va piangendo per i suoi eterni danni ora Dante sta passeggiando sopra il margine del fiume quindi non può scendere chiaramente a livello di Brunetto nella spiaggia infuocata io non lo savo scendere della strada per andare par di lui per andare accanto a lui però guardate questo dettaglio è meraviglioso dice il capochino tenea come uomche irreverente vada visto che Dante si sente cioè imbarazzato dallo stare fisicamente più in alto rispetto a Brunetto allora ha la cortesia ha il rispetto di abbassare il capo e di camminare accanto a lui col capochino nell'atteggiamento di chi cammina in modo riverente chiaramente Brunetto Latini a questo punto vuole sapere che ci fa Dante e lì dice qual fortuna o destino anzi l'ultimo di qua giù ti porta ti conduce ti mena e chi è questo che mostra il cammino riferendosi ovviamente a Virgilio lassù di sopra risponde Dante nella vita serena nella vita terrena mi smarrino una valle questo è un chiaro riferimento alla selva oscura del primo canto ma anche come vi dicevo alla selva oscura dell'opera di Brunetto Latini non può non citarla Dante tutti i lettori sanno che quest'idea è di Brunetto prima di raggiungere la piena maturità sappiamo che Dante nel mezzo del cammino di sua vita si perse nella selva oscura pur rier mattina le volsi le spalle questo Virgilio mapparve tornando io in quella mentre io retrocedevo e reducemi a ca per questo calle mi riporta a casa attraverso questa via a questo punto Brunetto dice beh se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto non potrai certamente mancare di giungere al porto della gloria se ben m'accorsi nella vita bella cioè se ho ben visto durante la vita terrena quanto sei bravo qui Brunetto sta incoraggiando il proprio allievo Dante gli sta dicendo se mi sono accorto bene del tuo talento quando ero vivo allora non ho dubbi che riuscirai a compiere questo viaggio che è chiaramente un viaggio fisico se rimaniamo nella finzione letteraria ma è anche un viaggio letterario Dante sta scrivendo un'opera impegnativa da morire e è bello che faccia dire al proprio maestro delle parole di incoraggiamento come se Brunetto Latini che ai tempi in cui Dante scrive è già morto gli dicesse vai che ce la puoi fare sei assolutamente in grado di scrivere quest'opera infatti dice e se io non fossi sì per tempo morto se non fossi morto prima del dovuto veggendo il cielo a te così benigno vedendo cioè il cielo così favorevole a te e al tuo talento ti avrei senz'altro dato un aiuto una mano in questa tua opera ecco qui che cominciano però poi subito dopo dei versi abbastanza tristi drammatici perché qui Brunetto Latini non si limita a fare i complimenti a Dante ma tira fuori un'altra profezia come altri che abbiamo già incontrato vi ricordate Ciacco canto 6 e Farinata canto 10 Brunetto Latini qui si sente responsabile di dare degli avvertimenti a Dante sul futuro gli dice guarda che quello in grado popolo maligno ovviamente i fiorentini che discese di Fiesole ab antico cioè che ebbe le sue antiche origini da Fiesole ecco quel popolo che tiene ancora del monte e del macigno cioè che è selvatico e rozzo insieme ancora le abitudini di chi abita le montagne di chi è rozzo ecco quel popolo ti si farà per tuo ben far per il tuo retto operare nemico ed è ragion che tra li lazi sorbi si ti sconviene fruttare al dolce fico cioè Brunetto Latini ti dice e va bene così perché guarda tu sei fatto di un'altra pasta tu sei un dolce fico rispetto ai sorbi così agri che sono i fiorentini vecchia fama nel mondo li chiama orbi cioè un vecchio proverbio nel mondo li chiama ciechi è gente avara invidiosa superba fai sì che tu sia estraneo ai loro costumi allontanati da loro allontanati da Firenze Dante non perde proprio occasione di prendersela con la sua città però ricordiamoci sempre che questa chiacchierata tra Brunetto e Dante in realtà non esiste è Dante che sta scrivendo queste parole e che quindi sta usando dei personaggi autorevoli per dare contro la sua città c'è una rabbia un irrisolto nei confronti di Firenze che va avanti per tutta la commedia la tua fortuna tanto nor ti serba continua Brunetto che l'una parte e l'altra avranno fame di te sia i bianchi quel fi bianchi che quelli neri vorranno divorarti avranno fame cioè invidia di te ma l'erba sarà lontana dal caprone ma lungi fia del becco l'erba cioè che significa che non riusciranno a raggiungerti non riusciranno ad averti qui di fronte a questi avvertimenti Dante risponde subito se il mio desiderio fosse del tutto esaudito non sareste ancora bandito dalla vita umana cioè sareste ancora vivo caro Brunetto ed è impressa nella mia memoria la mente m'è fitta e ormaccora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora mi insegnavate come l'uomo s'etterna questi secondo me sono i versi più belli dedicati a Brunetto Dante sta dicendo proprio ancora mi ricordo e adesso mi accora ripensarci l'amata e dolce vostra immagine da padre paterna quando durante la vita terrena di tanto in tanto mi insegnavate come l'uomo si procaccia l'eternità attraverso la poesia che Dante ha appreso da Brunetto l'uomo diventa eterno si merita l'eternità e quanti io l'abbia in grado mentre io vivo convien che nella mia lingua si scerna e quanto io l'abbia in considerazione finché io vivo si vedrà di sicuro nelle mie parole annoto ciò che mi state dicendo della mia vita e serbolo a chiosar con altro testo a donna che saprà se a lei arrivo Dante ormai ha imparato dice guarda mi annoto quello che stai dicendo ma so già che lo dovrò chiedere poi a Beatrice una volta che la vedrò dovrò chiedere che mi venga spiegata questa tua profezia a donna che saprà se prima o poi raggiungerò il paradiso Dante a questo punto è curioso non ha chiesto nulla a Brunetto che riguardi il suo peccato dige un po' quel tabù che ancora oggi è presente sul tema cioè di omosessualità non si parla certo che non può evitare di chiedergli chi siano tutte le altre anime che sono lì con lui e questo è un passaggio divertente perché Brunetto gli risponde guarda che posso informarti di alcuni di costoro di altri è meglio tacere perché il tempo sarebbe troppo scarso per un così lungo elenco cioè Brunetto dice che i sodomiti lì presenti sono proprio tanti che quindi evidentemente l'omosessualità anche ai tempi di Dante è molto diffusa non è un'invenzione recente come dicono alcuni e dice anzi guarda sappi che tra di loro sono quasi tutti ecclesiastici o letterati grandi e di notevole fama cioè tanti letterati ma soprattutto ci sorprende leggere tanti ecclesiastici praticano continuamente la sodomia Dante ci dice proprio sono tutti macchiati di un medesimo peccato di un peccato medesimo al mondo lerci qui a questo punto ci fa dei nomi di due grandi maestri di grammatica e di giurisprudenza brisciano di cesarea e francesco d'accorso oltre al vescovo andrea de mozzi insomma questi sono alcuni dei nomi di omosessuali che incontriamo ma anche nel canto successivo ce ne saranno altri di cui raccontare la storia intanto qui brunetto chiede una raccomandazione a Dante gli dice si e ti raccomandato il mio tesoro la mia opera il tresor ti sia raccomandato nel quale io continuo a vivere ancora di più non ti chiedo poi se ne va si gira e corre velocemente verso i suoi compagni lasciando Dante con questa promessa di eternare il tresor e lasciandolo soprattutto ai prossimi incontri del prossimo canto dove incontreremo nobili fiorentini sempre colpevoli di essere stati omosessuali ci fermiamo qui con uno dei canti forse più autobiografici dell'inferno e a mio parere con uno dei canti più belli spero vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti